Ebbene a tutti ragazzi, qui è Axel e siamo su Minecraft, anche se non si vede Ehm, volevo portarvi un video su Clash Royale, perchè ho fatto un aggiornamento bello Però, sto cellulare di merda non me lo aggiornavo Facciamo una, vediamo, facciamo una partita dei server, boh, bedwars Che fa sempre piacere, ho già fatto un video sulle, su dei server, però non so se me l'ha caricato Ma è poco male, perchè avevo fatto schifo, cos'è sto? Pubblicità Cos'è sta cosa? Non so cosa sia Guardate una cosa bellissima Perchè voi dovete sapere che sto gioco cambia la grafica Adesso è uscita una grafica Bum, bum, bum Carica, noi vi lascerò Limpi Quindi, potete scendere Anzi No, a fine vediamo per essere intratto nelle bedwars, cioè Non ci posso fare niente Adesso Ok ragazzi dovremmo esserci Adesso c'è Adesso c'è Quella Ci sono due squadre da Quattro, non mi sbaglio Beh Era la prima che si era Liberata Siamo pronti a perdere malamente? E vai Red contro pink Tra una trentinaia di secondi Mentre Ditemi se volete altri video Sui minigiochi Bedwars, Skywars Queste cose qui Purtroppo non ci sono le build battle però C'è No dai Ditemi quanto fa schifo la grafica del Del mattone Quanto fa schifo Dai C'è Non riesco a distinguere una cosa dall'altra, cioè Ma fa schifo la Questa Ha gli item speciali Il nostro obiettivo sarà vero è sta cosa Perché non so cosa sia la voglio Allora se non mi sbaglio questa qui ha anche la mappa Quello orribile Che se non mi sbaglio anche perché Come potete sapere a me non mi carichi il mondo Quindi se non mi sbaglio Eccolo 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 non mi carica il mondo e quindi io non vedevo la scala perché avrà più di un'altra scala che portava il letto a sto punto c'è farmiamo nella nostra isola perché tanto non servirebbe a nient'altro non so dove è l'isola avversaria faccio le cose con calma tanto il tempo non ci manca di certo ci prendiamo una bella cesplettina in diamante un po' di inferno esatto un po' di inferno questo è un dramaturio in diamante ok benissimo il cesplettino in diamante pronti a perderlo a pubblico come presupponevo uso l'avversaria per la pubblica di là ok dissi è quello che sta prendendo tutto il ferro poi aspetti il piccone millzo che ci possiamo fare è quel eh non è che si devo essere sincero 5 link 5 tra 4 altri 4 appena arriviamo a 9 e iniziamo a guardarci i mail vedete lo sto già portando all'attacco vai provati ho detto l'attacco e mi bordo io scusate a giocare così c'è sicuramente sono uno di quelli che rusha però se non si sa dove si trovano gli avversari si può lasciare scusa se si risultati in modo che i tu compagni ti portano i materiali basi loro invece sono già dove il tuo avversario Questa è una nostra base al sicuro Premiamo blocchi Perché sicuramente dovremmo dargli il cambio Perché si Poi i blocchi dovranno finire Guardiamo nel mentre E basta Adesso Picconcino E siamo pronti diciamo Io dico che siamo pronti Perché non ci deve mai mancare il cibo Ci varia Che ho fatto i forni Posso qualcosa Che ho fatto i non ci deve mai mancare il cibo Gozo Volevo dare gli ostacoli, volevo dare i 28 però vabbè Noi facciamo sempre del bene ragazzi Sì, decisamente, eccoli qui Siamo arrivati al centro Ragazzi Non so come mi ha dato una laggata assurda Infame Io sono messo meglio i miei compagni A parte di te sono messo meglio i miei compagni La parte negativa è del PDP Vabbè, che brutto è poco Che brutto è il PDP C'è l'argela pink Vediamo un attimo qui Vediamoci un attimo del centro Se sponano Ragazzi Se abbiamo molto oro Se abbiamo molto oro Potrei ritornare Tipo Tanto Seccato Quanto mi uccido Volevo solo due Poi vabbè Qua si duplicano i materiali Ma che cazzo Ma che cazzo Io che lo Guardate Ragazzi Ragazzi Dato che sappiamo dove sono i nostri avversari Gli facciamo un bel picconcino E Gli lasciamo Spadina proprio scialla Va bene In pietra Ok Possiamo farcela Benissimo Bipietra Ci servono Ma anche semplicemente Una vina Che andrà più che bene Cos'altro Un po' di cibo E poi siamo pronti ad andare Tanto che ci frega Tutto l'abbiamo già perso Massimo la faccio con Con questi Mi faccio il po' di Vi giuro Perché mi sono stancato Cioè a me Mi si buggono i generatori Ragazzi Che devo fare Il ferro Basta Andiamo all'attacco Un pezzettino di handstone Aiuto Che cazzo Boh vabbè Speriamo Un match Perfetto Non sono fatto Un cazzo E direi Da Axel E invece no Perché Il video Non è una scelta Ok Se avrete seguito Questo video Fino alla fine Vedrete L'IP SG 37 Punto L La porta Vabbè Quella classica Quella 19 132 E il nome del server Non lo dite voi Da Axel è tutto Ciao ragazzi Grazie per la visione